Cari amici, sono Pai. In questi due giorni si è ripreso il campionato di calcio italiano, la Serie A. A proposito, sapete come si dice in cinese calcio? In cinese si dice ZU CHIOU ZU, secondo tono, significa piedi e CHIOU, sempre secondo tono, significa pallone. Insieme, ZU CHIOU, calcio. È un bene alla ripresa del campionato di calcio italiano A proposito, sapete che squadra italiana tifo io?